Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video di Fortnite. Allora, come sapete tutti, è la patch 12.30 uscita oggi o ieri o oggi o qualcun... ditemi voi. E volevo fare questo video perché volevo avvertirvi che... Allora, punto 1. Oggi dopo pranzo credo uscirà un nuovo video sul mio canale però con un mio amico. Quindi faremo tipo coppie e roba del genere. Aspettate ragazzi, lo cerco. Forse lo cerco anche troppo offline visto che ne ho tantissimi gli amici. Vabbè, ve lo cerco direttamente su PS4. Come potete sapere io sono da PS4. Allora, vi mostro la chat che ho io. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo, Alessandro Biagi. Ok, questo insomma è... Ok, giocherò con lui facendo qualche partita insieme. Oh mamma mia, il negozio di oggi è qualcosa di incredibile. Tutto questo... Nuovo stile, terrori della notte, carino. Aspettate, non lo faccio vedere. Carinissimo. Però il problema è che ho 100 V-Bucks perché ho dovuto shoppare... Appunto la skin quella... Ecco. Non mi piace tanto però... Sempre meglio averla che non. Allora, poi... Il mio armadietto... Vabbè, non ne ho tante di skin quindi non vi faccio vedere un video su cui ci mostro il mio armadietto. Ve lo forse lo porterò magari forse a 20-30 iscritti. Come vedete, il gioco da season 4 l'ho anche detto. Mamma mia, ora... Pochissimo mi mancava per il corrotto totale, eh. Dai, ammettetelo. Un pochino si... Poco mancava, dai. Allora. Allora, vi mostro quali vittorie ho fatto in questi giorni. Allora. Ho fatto vittorie reali in season X. In season 1 capitolo 1. Nella modalità Fortnite Mers. Season 8. Season 8 però me l'ha dato comunque. Poi season 1 capitolo 1. Questo qua me lo dà per salva il mondo. E questo qua capitolo 2 stagione 2. Io ovviamente, perché sono un grande fan della stagione 10, metterò una skin della stagione 10 e resto. Metterò ovviamente Yonder perché... Non si può non amare. Ragazzi, che figata. Ho sbagliato. Dove un premere X, non un cerchio. Ok, poi metterò il suo backpack se ce l'ho. Perché io ho preso tutto il pass battaglia. Devo trovarlo, chissà se poi c'era un backpack. Mi ricordo. Potrei usare questo. Non lo so perché gli stampa, va bene. Piccone ovviamente dorato. Anzi, prendo il suo piccone. Se non sbaglio ce l'ho. Aspettate che in modo lo cerco. Dai. Il piccone dell'ama. Io gioco la season 4, però i pass battaglia sono quelli della season... Sbaglio 7. Chapter. Guardate. Pam. Quanto è figo. Poi, ovviamente, ho Brennino della stagione X. Balletti. Non ne parliamo. Cioè, ne ho un po', ma... Chissene. Allora. Andiamo un attimo sull'espite di Deadpool. Perché io di Deadpool sono molto contento. Password. Non so perché hanno messo password come password. Settimana 6. Non messo nulla perché dovevo mettere anche in anteprima l'altra. Uh, due giorni... Due giorni esce la skinny Deadpool. Like se siete in hype per questa cosa. Allora. Che vi devo dire? Non so, ma... Il pass battaglia, come sapete... Infatti nel video stavo utilizzando la skin di Nida. L'ho già finito. Infatti non so se prendi... Io prenderò sicuramente ombre perché... Che... Ragazzi. Ammettetelo, è figo. Allora, sfide giornaliere. Pesca-pesce. Mi state prendendo per... Cioè, dai. Facilissimo. Ok, poi abbiamo tavola delle sfide. L'ho messo qualche altra sfida. Rispetto di Mianos, con il briefing di Brutus. Non hanno messo nient'altro. Agenti. Non hanno messo... Uh, uh, uh. Non hanno messo ancora... Sky. Strano. Quindi dovrebbe arrivare... Domani. Se il mio... Se la cosa non mi inganna. Dai. Ovviamente. Se siete dei fan di Capitan Blazer. Mettete codice... C. Capsulock. Cap. Vediamo un pochino se è giusto. Perché mi ricordo che forse l'ha cambiato Cap. Esatto. Codice Cap quando shoppate qualcosa. Mi raccomando. Che tanto... Uh, animale da festa. Io già ce l'ho animale da festa. Ok, ragazzi. Spero che questo video molto... Lungo sulla mia situazione di Fortnite. Infatti... Sono messo proprio benissimo. Sì. Vi sia piaciuto come se... Se così fosse... Lasciate un bel mi piace. E anche nella... Metterò forse lì... Metterò... Farò qualcosa. Non so che cosa però... Il video uscirà dopo pranzo. Mi raccomando. Datevi la data. E godetevi sto video di mia. Ascolò poi il video finisce. Passate un attimo il volume. Ok. Ok. Grazie a tutti.